buonasera a tutti ragazzi vi saluto come sempre sono mor e vi sto parlando da torino un saluto a tutta la comunità senegalese e africana tutta la diaspora che si stanno sempre seguendo ma faccio un applauso forte tutti i follower che si stanno sempre seguendo sui nostri canali youtube e facebook prima di tutto ragazzi vi chiedo scusa per il tempo che siamo rimasti finora senza aggiornarvi dovuto ai tempi stretti col lavoro che purtroppo non potevamo abbinare tutti i due ma vi chiedo scusa per questo e oggi cercherò anche a dare tutte le ultime aggiornamenti riguardo tutte le domande che mi hanno chiesto finora cercherò oggi a darvi aggiornamenti in merito a tutto quello che c'è come novità parleremo oggi del pagamento della quarta rata di rem parleremo del reddito di cittadinanza ma parleremo anche ragazzi dei pagamenti naspi e parleremo anche come lo sapete delle ultime novità che stanno girando parlando di ulteriori proroghi rem o bonus onnicoprensivo cercheremo a dare chiare sesso di questo e per finire parleremo della borsa di quello che sarà il prossimo la prossima legge di bilancio è stata presentata la settimana scorsa il 28 di ottobre al consiglio dei ministri e cercheremo a fare chiare sesso di questo bene ciao 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 Grazie a tutti i nostri amici. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.